Trachit Blockchain è il progetto ideato da Agenzia ICE che proietta su scala globale l'arredo e il design made in Italy. Racconta la tua filiera produttiva, mettendo in evidenza l'importanza dei principi di trasparenza, tracciabilità e sostenibilità che caratterizzano i tuoi prodotti. Veri rappresentanti dell'eccellenza del design made in Italy. Costruisci un legame autentico e genuino con i tuoi clienti, mettendo in risalto la qualità dell'arredamento italiano. Utilizzando la tecnologia Blockchain è possibile esplorare in dettaglio tutte le fasi della creazione degli arredi e oggetti di design, offrendo una visione completa della tua filiera, dalle prime bozze ai materiali utilizzati fino alla realizzazione del prodotto finale. Con l'impiego di un QR code incorporato nel prodotto, si instaura un collegamento immediato tra l'acquirente e le informazioni relative alla sua creazione, evidenziando in modo trasparente tutti i processi coinvolti nella realizzazione e nella distribuzione dei tuoi prodotti made in Italy. Trackit Blockchain rafforza la fiducia del consumatore, garantendo una maggiore sicurezza durante l'acquisto di prodotti che vengono percepiti come più affidabili e sicuri. Approfitta del supporto completo fornito dall'agenzia ICE per accedere al servizio per un periodo di 18 mesi, senza alcun costo aggiuntivo o vincolo di rinnovo. Per partecipare, è necessario essere iscritti da almeno tre anni presso la Camera di Commercio e avere un'attività regolare di esportazione verso almeno due mercati internazionali. È giunto il momento di condividere la tua storia made in Italy con il mondo. Visita il sito dell'agenzia ICE per scoprire come Trackit Blockchain può trasportare il valore e la qualità del made in Italy oltre i confini nazionali. Trackit Blockchain. Dove la tua storia incontra il mondo. Dove la tua storia incontra il mondo.